La festa di ogni santi è ormai anticipata, da anni anche nel nostro paese, dalla notte delle streghe e dei fantasmi, degli spiritelli e delle zucche che prendono vita. Halloween, insomma, fa parte degli appuntamenti festaioli annuali di tutti gli italiani e, come ormai tradizione, verrà festeggiato nei modi più originali. Anche Lecce e il Salento, in generale, non si tirano indietro e propongono per questo appuntamento, ormai consueto, un ricco ventaglio di proposte per passare una notte da paura. Nonostante i numeri dei flussi turistici sembrino segnare un meno 20% di prenotazioni, tanto per il comparto alberghiero quanto per quello extraalberghiero, la macchina organizzativa, seppur frazionata e quasi totalmente affidata ad iniziative di singoli imprenditori o singole associazioni, si è mossa per offrire e garantire una notte da brividi e di divertimento. Tra le varie serate torna una notte da paura nel suggestivo scenario messo a disposizione dal castello volante di Corigliano d'Otranto, tra musica, inquietante apparizioni, installazioni artistiche, installazioni letterarie e cinematografiche, così come a Copertino, Martignano, Tricase e, in generale, in tutta la provincia. Non possono mancare, ovviamente, le offerte Leccesi che, con i suoi locali e i suoi teatri, metteranno a disposizione live musicali, spettacoli a tema e installazioni spettrali, per la gioia non solo dei più piccoli, ma anche dei più grandi, che, per una notte, potranno truccarsi per diventare più mostruosi che mai.